Il vecchio Giulio Andreotti diceva scherzando come se fosse una battuta, alla fine moriremo tutti democristiani, come per dire che quel grande partito che era la democrazia cristiana che mani pulite aveva dissolto in centomila pezzi, quello spirito cristiano, quello spirito democristiano sarebbe stato difficile da dimenticare o da cancellare e alla fine quella balena bianca che tutti odiavano e che nessuno voleva, alla fine quella balena bianca sarebbe ritornata. Il pensiero nasce da quello che è la candidatura di Giampiero Bocci ad essere il segretario regionale del PD. Bocci viene dalla vecchia democrazia cristiana, da quella che era la democrazia cristiana dei Radi, Micheli, Malfatti, Ercini, Liviantoni, insomma lo spirito democristiano era quello. Poi Giampiero Bocci ha scelto di essere un uomo di sinistra, ha fatto la sua splendida carriera come deputato, come sottosegretario e adesso arriva ad essere candidato per il PD alla segreteria regionale. Apriti cielo quello che è successo, un democraziano che diventa leader del PD, non c'è più religione, la vecchia sinistra dove è finita? Verini che è un uomo di sinistra, un veltroniano di sinistra, si candida per contrastare questo pensiero nei confronti di Giampiero Bocci. Su Giampiero Bocci c'è la volontà di andare alla elezione come segretario regionale del PD di diversi personaggi all'interno del Consiglio regionale, compresa la Marini che ha avuto parole di elogio e ricordando che è solamente un uomo come Giampiero Bocci con la sua esperienza, con la sua conoscenza, con la sua pagatezza che può tirar fuori il PD regionale da questo impasse. Anche perché se non interviene un uomo di qualità, un uomo di capacità, questo PD non è destinato a durare. Lo sanno perfettamente nelle stanze del PD. Occorre dare una visione diversa a questo PD. Però un democristiano, un democristiano che diventa segretario regionale del PD. Bisogna tornare indietro con la storia di questa funzione quando Prodi costruì l'Ulivo per andare a vincere le sue elezioni. L'Ulivo era l'insieme della sinistra e dei vecchi democristiani. I vecchi democristiani di sinistra, sia ben chiaro, perché i vecchi democristiani che avevano la coda di destra si erano schierati con Berlusconi. Poi ci fu l'Asinello, poi arrivò la Margherita. Insomma, quell'anima unica che ci doveva essere all'interno del PD è sempre stata un'anima divisa tra quello che era la vecchia democrazia cristiana e il vecchio PC. A Brutti ricordavo, quando si parlava di questa fusione, a Brutti decise di non aderire a questa fusione, di un esempio classico, di un pentolone dove dentro mettiamo il riso e gli spaghetti, convinti di poterli tirare su insieme e di poterli gustare insieme. In realtà il riso ha una sua cottura e gli spaghetti hanno un'altra cottura. E allora o tiri su il riso al dente e gli spaghetti sono terribilmente scotti, o tiri su gli spaghetti che siano al dente, ma il riso ancora è crudo. Però tutti questi pensieri sull'essere democristiano, lui era un vecchio democristiano, e sapere che per almeno 20 anni ci si è affidati ai vecchi democristiani per essere rappresentativi, beh, questo davvero fa pensare eppure parecchio. Nonostante tutto, la mia più cordiale buona serata. Grazie a tutti.